Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nella verandina del convento, proprio accanto alla cella numero uno di Padre Pio. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse nel 1915 a suo padre Agostino. I curatori dell'epistolario sono chiari, infatti nella loro premessa mettono in virgolettato quello che Padre Pio stava vivendo. Sto per essere schiacciato sotto il peso delle tribolazioni. Il solo pensiero della misericordia del Signore è quello che mi fa stare ancora in piedi, ma continuerà a sorreggermi ancora? Non diffido della bontà del Signore, ma me lo fa temere la mia fiacchezza, la mia ingratitudine, verso tante grazie che Lui mi va compartendo. Il Signore ha tolto il velo che mi nascondeva, il gran mistero, la mia vita trascorsasi malamente, la mia anima si deforme e ripiena di colpe e fatta indegna dello sguardo di Dio. D'altra parte, anche la bontà di Dio mi si discuopre e lungi dalle carni conforto, mi atterrisce, mi spaventa, mi fa agonizzare, mi fa provare quelle pene che sentono quelli infelici, giù all'inferno. Perché mai tutto questo? Che cosa ho fatto l'anima mia in questi ultimi tempi da attirarsi? Non saprei, se dico bene, tanto sdegno dal cielo. Innanzi a questo doppio quadro estremamente opposto, quale io fui, cioè per il passato, e qual è la bontà di Dio, io agonizzo continuamente. Non vi è tregua né di giorno né di notte, nulla, proprio nulla, mi distrae da questo incubo che mi tortura. E ciò che più mi strazia l'anima, sì, è che forse queste mie pene non sono accette a Gesù, perché provenienti da un vaso di ignominia, e chissà che non sia adesso anche un vaso d'ira, io non ingrandisco la cosa, Padre, e la malizia che io sì chiaramente veggo e che così mi fa parlare, ma potessi almeno farmi comprendere da altri, valessi almeno a discoprire tutte le mie pene a chi mi dirige. Se ciò mi fosse possibile, io forse resterei scaricato di un sì gran preso. Mio Dio, sarà mai vero che dovrò calare nella tomba, portandomi ecco il gran secreto che mi circonda, il gran mistero che mi opprime, sì incerto dell'eterno mio destino? Se ciò è a salute, sia pure, se è a perdizione, non ho a chi darne la colpa, l'ho giustamente meritato, ma mi salvi la tua misericordia che non conosce mai limiti.